il braccio uno lo lascia come si fa? come fa lui a proteggersi da questo possibile pugno? a questo punto se lui vuole riprendersi il pugno lui è lento quindi come si fa? io voglio cambiare allora c'è un cambiamento? cambiare è quello che abbiamo fatto piano piano questo si 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 capisce meglio si capisce meglio guarda bene guarda bene che cosa ti fa? passo passo non è molto agibile spingere spingere non va a cercare di spregnare spingere toglo la qualità d'accordo? capito? e allora passo indietro uno passo indietro due passo indietro tre vediamo fin qua bene 1, 2, 3, 4, 1, passi indietro, 2, passi indietro, 3, passi indietro, 2, passi indietro, 3, 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 passi indietro Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti